ecco hai capito ma che bel sasso che ho trovato è un sasso di lavorazione è uno scarto di lavorazione glielo porto a dammi qui ma smettila dopo lo vado a pescare andiamo ruzzare ruzzare è quella che mi avete fatto fare a me l'altra volta prima o poi ci arrivo va preparata se non ha accettato anche lui è perché è proprio troppo esagerata ha detto che c'è troppa acqua in partenza non gli piace e pensate che abbiamo iniziato con queste cose roba da non credere dove siamo finiti comunque quella là chiamasi valle della morte d'oggin poi è valle della morte a metà almeno ho una corda da attaccarsi quello non c'era il perché o è la moto che fa quelle cose lì o non lo so c'era come appena uscito al negozio impressionante vabbè dove li abbiamo persi tutti due cicerare due a fare un cazzo due altri ai due cicerare siamo già in sei prendo benelli no grazie no non sono più capace di andare con queste cose no no non sono più buono che cazzo vai te dai scopidino che cacchio è ci sono gli umani che ci hanno invaso ormai che cacchio stanno a guardare che cacchio stanno a guardare